Musica Hakuna Matata ragazzi, ben ritrovati dal vostro ciccio gamer89 Siamo tornati su FIFA, ultimamente in mescaliamo la divisione Signori, ci abbiamo un pacchettino da aprire, e fin qua tutto a posto Intanto, apriamoci il pacchettino meravigliao, che ci sono dei giocatori incredibili Ci abbiamo, i nostri, e poi tra l'altro c'ho 14.000 crediti quasi, perché mi sono un po' allenato a giocare da solo Beh insomma, poi abbiamo vinto la divisione, quindi ci sta, mi sono venduto i giocatori Ma vediamo adesso lo spacchettamento, incredibili signori, mi piace, mi piace, mi piace Gomis, minchia che bel pacchetto di merda, due argenti Jakobsen, Ivanov, Stroz, Gomis Gomis, e poi, e poi niente Poi la merda Allora signori, questa è la nostra rosa È arrivato il momento di comprarci un buon difensore centrale Mi scrivete sotto qui nei commenti che cosa mettere, che può fare in tesa e che sta benissimo Mi raccomando, aspetto i vostri commenti Vi ricordo di lasciare un bel mi piace Ma quest'oggi, sempre giocatore online Stiamo nella divisione 6, se non sbaglio È nuova, 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 quindi questa qua è la prima partita che ci facciamo La formazione non credo di doverla modificare perché va bene così Comunque, ripeto, se avete qualche consiglio da darmi nella squadra Tipo un difensore centrale, bello Cagliardo Dite, sparate, che ce lo aggiungiamo Cerchiamo la partita e vediamo un po' chi troviamo Perché oggi deve essere, oggi dobbiamo essere aggressivi signori Ci abbiamo Aduriz, ci abbiamo Cagliayon, ci abbiamo Torres Ci abbiamo Pirlo, signori ci abbiamo veramente davanti dei gran, gran giocatori Vediamo un po', eh Ok, stiamo contro SV Monreal Yaming Man Ok, io ci sto Due squadre, ok, ho quella blu io, me la metto io blu Ci abbiamo 80, 80, 79 Non è male Lui lo vedo molto tranquillo e molto pagato E un po' questo mi, mi spaventa, anche perché sta portando delle modifiche un po' strane Io voglio vedere la sua squadra, sinceramente Però Mortacci tua, perché me stai a fa' attendere così tanto? Cioè, ma vuoi dire che io ti devo schippa' Se vuoi te schippo, giuro, te schippo Non mi fai app... perché? Ma non è che uno che mi fa vedere... dico, ok 73, valutazione, questo ce l'ha buggati Oddio, c'ha tutti argentoni È una squadrona d'argentoni Allora, o è fottutamente bravo O è un altro youtuber che sta a registrare O è fottutamente bravo O è una persona che comunque, come me, sta a giocare piano piano Ma... SV Monreal Ma è possibile che io già l'ho sentito sto nome? Mi sembra... un po' strano, eh Certo, però... siete tutti uguali, eh Siete... Ed è rete Una cannonata, un missile che non ha lasciato scampo al volgine Quanto mi piace Ecco, c'è l'ho vista Ok... ho visto quello che ho visto Da un argentone che mi fa un gol del genere Va bene Va bene Va bene Va bene Eh... come... Vavo detto inizialmente Questo ce vuole sfracca Erculo Dai che siamo... siamo soli Siamo soli Siamo soli Siamo soli Grossa! Ma non ci siamo arrivati Non ci siamo arrivati Cerchiamo di riprenderla Cre... Oh! Oh, vabbè Mi sono sbagliato Non volevo fare quello che ho fatto Non volevo fare quello che ho fatto Eh, vabbè Neanche ci arriviamo con la capoccia Mi è morto uno Lo sapevo io Ok Dai, 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 dai Bomba! Madonna! Perché? Perché lui mi ha fatto quel tiro Dalla madonna Io ho fatto quel tiro bello E non sono riuscito A entrare dentro Carcio d'angolo Eh, vabbè Già ce l'ho uno rotto Già ce l'ho uno rotto Chi è? Aduriz Mi tocca metterci i totti, ragazzi Prosti cazzo de... Eh, vabbè Madò... Hulk Ma veramente Hulk Guardateli C'hanno una prepotenza incredibile, ragazzi Ma veramente C'hanno una prepotenza incredibile E vi tocca cambiare anche Aduriz L'ho visto Mi sembrava che se n'ha fatto male Aduriz Ok Aduriz sta a posto Non è successo niente Eh, te dico io Provo a tirarci da qua Ma sti cazzi Tante volte Maronna Dove si entra Che mi sento male Oh Oh Ma porca puttana Un palo Ma un palo No I pali No I pali No Per cortesia I pali No Non è possibile Dai, dai Dai, 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 dai Qualcuno salga Qualcuno Che cazzo è? Ok Ok Arca miseria Giulia Malala Lelelu Eh, vabbè Ma non stai esagerare Leggermente Io ti dico Che per me stai esagerare Leggermente Poi Ok 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 Forse Dico forse Bomba Oh Era bello come tiro Era bello come tiro Non sono riuscito a farlo entrare Ma era bello come tiro Era molto, molto bello Porca miseria ragazzi Quanto ci stiamo andando vicino a sta porta Ci stiamo andando veramente, veramente vicino Dai, dobbiamo fare qualcosa di Qualcosa di figo Ecco Guarda un po' quanto è figo sta cosa Ooooooooooooh Ooooooooh Goal Signori goal Non ci crede neanche lui Aduriz Non ci crede neanche lui signori Aduriz Che cazzo di goal Bellissimo Bella Bella Guarda passaggio Aduriz Lada avanti PEM Mamma mia Un ottimo gol Portiere Gli hanno automaticamente sparato Guardate Un morto il portiere Mamma mia L'ha messa nell'angolino Lassopra era difficile arrivarci Sono proprio contento di aduriz Mamma mia E Perché mi fa questi tiri ragazzi Perché mi fa sti tiri Sto stronzo Ottimo 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 Oh Mamma mia Ho fatto anche Il giochetto meraviglia E Mannaggia Non mi uscica Poi io quei goal Non li voglio mai fa Anche se sto a giocare contro uno stronzo Non li voglio fa Però Azzo Peppe Azzo Pe Uccidilo No Vai Vai Portiere Oh Bella Portiere Meno male che l'abbiamo fatto uscire Gà Mamma mia C'ha delle ripartenze Mostruose Mi piace come partita È bella Non ho Ancora sono rimasto traumatizzato un po' Dal primo gol Sinceramente Però Grazie a tutti 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 Oh Oh Ma qua non è in rete È fuori il caliglion Fermate Porca puttana Puttana Mannaggia Oh Finita signori Abbiamo strappato Un pareggio Abbiamo strappato un pareggio E secondo me Ci è andato pure troppo bene Sinceramente Ci è andato anche troppo bene Mamma mia ragazzi Che Che roba SV Monreal Monreal Vabbè Signori Porca miseria Vabbè L'appuntamento di oggi Direi che la Puffini qua Ok Va bene Sono rimasto Un bel po' sconvolto Sinceramente Ancora me devo riprende Un pareggio Sempre meglio Che una sconfitta Signori Vi ricordo che se il video vi è piaciuto Pollicione in su Commentate Condividete Ditemi Che difensore Comprare Ci abbiamo 14.698 crediti O datemi dei consigli Al prossimo appuntamento Con il posto di Ciccola89 Vi ricordo di passare il link Nella descrizione Che ci sta La mia pagina di Facebook E te dici un bel mi piace Ciao